I vigili del fuoco di Terni, così come i colleghi di tutta Italia, hanno celebrato questa mattina la loro protettrice Santa Barbara. Il 2016 è stato l'anno del terremoto con i vigili del fuoco ternani impegnati in prima linea per assistere le popolazioni e per mettere in sicurezza gli edifici, uno su tutti la facciata della Basilica di San Benedetto a Norcia. Il 2017 invece è stato l'anno degli incendi con oltre 400 roghi che hanno interessato 370 ettare di vegetazione nel Ternano.